L'osservatorio turistico pugliese ha diffuso i primi dati. Trend più che positivo rispetto al 2014 con un più 7,4% di arrivi e un più 10,7% di presenze nel solo mese di maggio. Sul web la Puglia è regina incontrastata dell'estate 2015. Momento positivo per la nostra regione ha dichiarato l'assessore Gianni Liviano. Sentiamo. Il fronte web continua a confermare l'appeal della Puglia per quest'estate 2015. Dopo il summer trend di Google che in generale conferma la Puglia fra le mete più desiderate, subito dopo la Grecia, arriva adesso Booking. La Puglia mostra un positivo trend di prenotazioni con la migliore performance della penisola, dichiara Andrea D'Amico, regional director di Booking.com. Per l'Italia, in un articolo del Sole 24 Ore in cui si riporta anche il commento di Federturismo che stima che un 70% di turisti italiani sceglierà le località marittime con in testa la Puglia. Già altri motori di ricerca del turismo come TripAdvisor e l'osservatorio di Hoteltrivago.it avevano citato la Puglia come la regione più ricercata dagli italiani. Segno non solo dell'appeal della Puglia ma anche delle trasformazioni radicali nato nel turismo con il web ed i colossi della prenotazione online al centro del mercato. È un momento positivo per la nostra regione, commenta l'assessore all'industria turistica e culturale Gianni Liviano. L'insperata ripresa del turismo italiano sembra premiare la Puglia, già da alcuni anni in fortissima crescita sui mercati stranieri. La strada per diventare una regione che fa veramente del turismo il suo settore di punta è ancora lunga e la sfida è soprattutto anche quella dei servizi. Ci impegneremo al massimo insieme agli operatori del settore perché questa sia un'estate da non dimenticare per fare in futuro del turismo in Puglia una vera industria portante dell'economia. L'incoronamento della Puglia, regina delle vacanze degli italiani, viene confermato quest'anno dai più importanti istituti di ricerca. Queste tendenze pare si stiano trasformando in flussi effettivi. I dati provvisori dell'Osservatorio del Turismo regionale confermano che già a maggio e giugno il trend è stato più che positivo rispetto al 2014 con un più 7,4% di arrivi e un più 10,7% di presenze nel mese di maggio. L'estate turistica pugliese dunque è iniziata a maggio e si mostra in crescita anche nel mese di giugno con un incremento stimato del più 2% circa degli arrivi e del più 4% delle presenze. Questi i primi dati provvisori trasmessi dal 65% circa delle strutture ricettive del territorio attraverso Spot, sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico, il software per la rilevazione dei dati introdotto nel 2013. Si tratta di dati dunque ancora incompleti e non definitivi ma già in grado di segnalare un robusto segno positivo sull'estate pugliese.